ciao allora oggi vi parlo di questo prodotto della tisco che è soft focus compact il fondotinta minerale wet and dry allora la confezione che è molto carina è un c'è la quantità è un 11 grammi e la stuccine molto molto bellino perché intanto ha lo strato con lo specchietto e qui che c'era il prodotto che tanto adesso vedete lo swatch e poi nell'altro lato qui sotto c'era lo spazio per la spugnetta che ho preso da qualche parte sto ancora usando non lo so il colore è lo 08 e l'ho trovato in offerta perché a prezzo pieno era davvero caro l'avevo preso sui o sei euro sette euro ok cosa no 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 Musica 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 è un fondotinta compatto, perfetto per andare per i ritocchi durante la giornata perché con solo questo piccolo astucino che è davvero piccino e carino avete lo specchietto, avete la spugnetta, quindi è perfetto ma io trovo che sia, sarà che io non amo i fondotinta compatti ma non è affatto coprente io lo trovo valido come cipria oppure effettivamente per i ritocchi fuori casa quindi quando già si è fatta la base viso la portiamo in giro durante il giorno ed è perfetta per i piccoli ritocchi in questo caso si è comodo il fatto di essere compatta proprio per essere portata fuori casa di fondotinta minerale, di minerale e l'inci c'è poco e niente veramente comunque sia come sempre c'è il voto delle beautiful inci quindi non ci sono problemi anche per quello lo sapete le mercensioni hanno anche l'inci e che altro dire, mi è piaciuto il fatto che è così carino mi piace il fatto che sia perfetto per i ritocchi io in casa lo uso come cipria perché ha un colore che va a svanire non è un fondotinta io voglio una coprenza maggiore soprattutto voglio un incarnato migliore e una coprenza maggiore quando esco lo porto in borsetta quando sto fuori tutto il giorno questo si il prezzo è un po' elevato quindi magari quando ci sono i saldi vedete in questo caso quindi potrei anche consigliarvelo con l'uso del prodotto wet and dry da fuori casa fatemi sapere se avete provato e come siete trovate come sempre io spero sia stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete la prossima recensione beauty ciao